Seconda partita del torneo, Maurice Revellò per l'Italia Under 21. Dopo il 4-3 contro il Giappone, arriva l'Ucraina. Dopo la prima mezz'ora di studio, la partita si stappa con il grande gol di Klan. Martiniuk lancia il numero 24 sulla sinistra, Zanotti lo rincorre e lo affronta. Klan rientra sul destro e, cadendo, riesce a coordinarsi e a battere Zacchi, infilando il pallone all'incrocio dei pali. La rete dell'1-0 galvanizza l'Ucraina, che quattro minuti più tardi ci prova dal limite dell'area con Fedor, ma il tiro è centrale e Zacchi para senza problemi. L'Italia si affaccia in attacco al 38esimo, Zanotti allarga sulla sinistra, Esposito controlla con il petto e poi mette un pallone insidioso al centro. Fesion esce a vuoto, ma inganna Ghilardi, che non riesce a spingere in rete, colpisce di petto sopra la traversa. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio dell'Ucraina, rimessa di Krupski, lavoro spalle alla porta di Sikan, appoggio per Fedor e palla scaricata per Martiniuk. Controllo e sinistro potentissimo sotto la traversa, imprendibile per Zacchi. Al 64esimo arriva il 3-0, Batagov in posta, avanza metà campo e imbuca per Klan. Il 24 corre sull'auto di sinistra e mette al centro la deviazione di Ghilardi, trova Sikan tutto solo, un rigore in movimento per l'attaccante dello Shakhtar, che firma il 3-0 per la squadra di Rotan. Al 70esimo 1-2 tra Krasnopir e Yarmoluk. Il numero 10 anticipa l'uscita di Zacchi e serve Voloshin, che insacca a porta vuota. A Obagna finisce 4-0 per l'Ucraina, prossimo incontro per gli Azzurrini di Nunziata il 10 giugno alle ore 18.15 contro Panama.